Michele Pazienza, tra l'altro giocatore di Colombo qualche anno fa, ma parliamo di questa partita. Pazienza, una vittoria meritata per la sua squadra, c'è poco da dire. Sì, credo assolutamente. Per quanto si è visto nell'arco dei 95 minuti, è stata una partita dove i miei ragazzi hanno cercato e hanno portato a casa un risultato importantissimo attraverso una prestazione importantissima. Hanno trovato l'episodio del gol su un calcio di punizione che è stato ben calciato e i ragazzi sono arrivati con i tempi giusti. Oltre a Capomaggio c'era, se non sbaglio, anche già qualche altro mio giocatore pronto a cercare l'episodio, a cercare di deviare la palla in rete. Dopodiché, nel secondo tempo, siamo stati bravi a chiudere tutte le linee di passaggio, a concedere poco e a ripartire per arrivare al doppio vantaggio. Non ci siamo arrivati secondo me per un pizzico di sfortuna e un po' di imprecisione, però per il resto sono molto soddisfatto di quanto ho visto sul campo, di quanto ho fatto dai ragazzi che si sono andati a buttare ancora una volta oltre gli ostacoli. E questo gli va riconosciuto, gli va dato merito e va sottolineato perché oggi hanno fatto un qualcosa ancora una volta di strepitoso. Avete concesso zero tiri in porta al Pescara in 95 minuti. Questo è un dato importante, quando parlo di che hanno fatto un qualcosa di strepitoso non mi riferisco esclusivamente a quello che è il risultato finale, ma mi riferisco a quanto prodotto sia in fase offensiva che in fase difensiva. Pazienza, per chiudere, la classifica oggi dice che l'audace Cerignola è a tre punti dal terzo posto. Se l'avessero detto questo qualche mese fa, cosa avrebbe pensato? Non ci avrei pensato, sinceramente, così come non ci avrebbe pensato mai nessuno, ma non abbiamo guardato la classifica fino adesso e stiamo lavorando benissimo. Non credo sia il caso di andarla a guardare ora perché mancano nuove partite e dobbiamo viverla partita per partita perché altrimenti andiamo a farci del male, andiamo a metterci un peso addosso che in questo momento ci farebbe più danni. L'ultimissima, che sia terzo, quarto, quinto, sesto posto, resta una stagione questa eccezionale per la sua squadra? I numeri e le prestazioni dicono assolutamente di sì perché chiaramente siamo partiti con l'obiettivo della salvezza e strada facendo i ragazzi hanno aggiunto passo dopo passo sempre un valore in più a quello che poi era l'obiettivo, a quello che era il percorso da fare. E' quello che io mi aspetto ancora da loro, ma non perché lo voglia io, ma perché me l'hanno fatto vedere loro, è quello di continuare a crescere senza porsi dei limiti. Ma al di là dell'aspetto della classifica, è proprio il voler crescere nelle prestazioni, nel migliorare quel qualcosa che di buono è stato fatto, che si può fare sempre meglio. Grazie.